Dalle parole si è passati ai fatti. Con la firma del protocollo d'intesa alla sede di San Micheletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, tra la Regione Toscana, il Comune e la provincia di Lucca e la Fondazione, si è iniziato l'iter che porterà ad investire sul territorio lucchese oltre 50 milioni di euro. Le opere che sulla carta, ma anche nella sostanza, hanno la propria copertura finanziaria, sono la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio, i cui lavori cominceranno una volta prodotto il piano attuativo del progetto, il restauro delle mura nell'anno del Cinquecentenario, con lavori che potranno iniziare già da subito, col Comune di Lucca che investirà 7 milioni di euro, così come la Fondazione, ed infine 25 milioni di euro che serviranno per ristrutturare le scuole lucchesi. Un importante risultato frutto del lavoro di concertazione di allienti e la presidenza Lattanzi, la quale ha scelto di investire il grosso del bilancio della Fondazione in grandi opere, soddisfatto il presidente Enrico Rossi. I progetti che ci sono stati proposti ci convincono, mi sembra che ne parleranno altri, ma quelli che condividiamo, il restauro delle mura, il ponte a costruirsi sul Serchio, le scuole, le carci, i finanziamenti vanno verso le scuole, sono cose di grande valore e meritano tutta l'attenzione da parte della regione. La Fondazione impiega 28 milioni, insomma, su questa ricetta, sta scritto nel protocollo, quindi noi come regione toscana pensiamo di poter aggiungere su questo impegno della Fondazione circa una ventina di milioni. La grande scommessa a questo punto, dopo aver trovato i fondi, sarà quella di realizzare le opere in tempi rapidi.